Facciamo viaggiare perché è arrivato il momento, purtroppo siamo arrivati alle ultime tappe del lungo viaggio che abbiamo fatto insieme, abbiamo percorso insieme con appunti di viaggio. Allora oggi vi porteremo, l'avete visto anche in anteprima, in Friuli, Venezia e Giulia dove per noi c'è Rebecca. Allora Rebecca, prima eri su Asauris, un borgo meraviglioso, è arrivata anche la pioggia? È arrivata anche la pioggia, infatti mi vedi che mi sono coperta un po' il capo e ho detto alla mia ospite qui, alla nostra ospite Sandra Varaskin che è qui con noi oggi di mettersi questo bellissimo vestito che aveva già con sé ma anche questo bellissimo cappello proprio per un po' proteggerci. Allora noi siamo sempre sul lago di Sauris, siamo in Carnia, in Friuli, Venezia e Giulia e lo dicevamo in apertura, insomma un luogo fermo nel tempo sembrerebbe, dove si fa una forma di turismo che è un turismo sostenibile di cui il Sandra in un certo qual modo è l'anima promotrice perché è anche direttrice di un albergo diffuso e grazie al suo lavoro e al lavoro degli abitanti di Sauris avete vinto un importante premio, insomma l'oscar del turismo internazionale in un certo senso. Il Best Turins Village è un riconoscimento dato dall'Organizzazione Mondiale del Turismo che è un riconoscimento che viene dato a quei borghi che sanno fare buone pratiche di turismo sostenibile in linea con gli obiettivi dell'agenda 2030. Poi curiosità Massimiliano, devi sapere che proprio qui a Sauris è nato il primo albergo diffuso, cioè proprio da qui che è nato questo nuovo concetto di struttura ricettiva e quando è nato e soprattutto poi su che cosa avete poi realizzato questi alberghi perché poi tu ne dirigi uno. Sì, 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 certamente. L'idea nasce qui in Carnia nel periodo del poste remoto e si concretizza qui a Sauris nel 1994 quando aprono i primi 12 appartamenti destinati ad albergo diffuso. Appartamenti che sono ricavati in stavoli tradizionali proprio come questo tradizionale che sarebbe quindi una struttura diciamo tradizionale dove venivano alloggiati al piano terra gli animali e sopra veniva ricoverato il fieno. Sono delle strutture diciamo bellissimo. Quindi conservazione, ambiente, rispetto e tante attività. Massimiliano lo vedi? Lo vedi il ragazzo sulla zipline che ci sta salutando? Sì, lo vedo, lo vedo e sarebbe stato bello che fossi tu lì presente a farlo. Non solo a commentare. No, in realtà questa è un'attività che volevamo offrire a te. Esatto, Massimiliano, che quando sei venuto a Sauris non c'era la zipline. Perciò devi ritornare e fare questa, diciamo, esperienza adrenalinica che permette di vivere la natura, di vedere dall'alto la natura e anche il lago. Massimiliano, ti aspettano qui per la prova della zipline. È una grande novità. Allora, tra poco tornerò lì da voi. Nel frattempo, eccola qui. Un po' mi dispiace, lo sapete? Perché è la penultima bandierina che andiamo a mettere. Allora, sulla nostra cartina andiamo a Trieste. Aspettate che eccola qui. È messa. Trieste. Manca, se non sbaglio, solamente una regione e abbiamo concluso il nostro viaggio. E allora, adesso però colleghiamoci con... Lei è friulana, è di Trieste, però la vediamo ovunque, ha girato tutto il mondo. Giovanna Botteri, in collegamento da Parigi. Allora, intanto buongiorno Giovanna. E ti chiedo subito, se hai visto il collegamento, se Sema è stata a Sauris, che cos'è per te il friuli Venezia Giulia e che cos'è per te Trieste? Allora, sono stata a Sauris, che è un posto bellissimo. È come la Virginia. È un posto molto poco conosciuto, ma molto affascinante. Poi, devo subito dire che io non sono friulana, ma sono Giuliana della Venezia Giulia. Tu sai che tra Trieste e la Venezia Giulia è il friuli e quindi sono triestina. E ti spiego anche perché sono triestina, perché sono una mula triestina. Che cos'ha Trieste? Visto che è la penultima puntata, voi pensate, cos'è Trieste? Perché dovrei andare a Trieste? Allora, io ti dico subito una cosa, che è la poesia del nostro poeta Saba, che ti racconta la bellezza scontrosa di questa città. Perché Trieste è una bellezza struggente e scontrosa? Perché ha questa dolcezza delle sue piazze, che sono le vecchie piazze mitteleuropea, l'asprezza della roccia del Carso e di quella bora che soffia, e ha quel tono aspro del mare e del mare azzurro. Perché andare a Trieste? Perché ci sono le mule e i muli di Trieste, che sono naturalmente fantastici, unici, che sono un mix di Europa centrale, Europa occidentale, Oriente, Occidente. Sono sportivi, sono duri, sono fedeli, sono amorosi, sono dei lupi che difendono e restano con te, sono con un cuore grandissimo. I muli triestini. E poi un'ultima cosa, perché Trieste è una città di frontiera, ma la frontiera di Trieste è una frontiera interna, quindi andare a Trieste significa scoprire anche quei confini interni, significa un viaggio nell'interiorità, non a caso Trieste è la città della psicanalisi. Tra l'altro complimenti, perché veramente sei la prima testimone proprio di Trieste, oltre a essere testimonial. Senti, ti chiedo questa cosa, qual è secondo te, a tuo avviso, il periodo migliore per andare a visitare Trieste? Mi ricordo poi che quando iniziai nel lontano 2000, il mio programma era Disney Channel, il programma per ragazzi, apri anche il museo, il museo del vento, il museo della Bora, proprio lì a Trieste, e ritornai con un'ampolla con all'interno la Bora del 97 era. Ecco, secondo te, e devo dire che anche lì, perché comunque è un vento importante, come stavi raccontando tu, ogni cosa lì è particolare e ogni cosa comunque ha senso poi in quel territorio. Il la Bora è il vento dell'est, è un vento dell'est che arriva, che può renderti matto, che può renderti strano, che può renderti felice, e quindi hai fatto bene a portartene un po' con te. Il periodo, quello che io amo moltissimo di Trieste, è il periodo di fine estate, quando l'estate finisce, quando le scuole ricominciano, e c'è ancora quella dolcezza del sole e del mare, della spiaggia con meno gente, quando assapori quegli ultimi attimi di quell'estate che sta scappando, che sta sfuggendo, quando prendi la barca vela e cominci questa traversata del golfo meravigliosa, beh, a me piace molto quella stagione. Senti, ultima cosa, poi ti lascio al tuo lavoro. Sai che comunque è stato aperto un punto di caffè famosissimo, diciamo, a Vienna proprio per le torte Sacher, c'è stata un po' di polemica, tra l'altro però dobbiamo dire che addirittura hanno dovuto smettere la vendita perché era già finito tutto il prodotto, quindi significa che è stato apprezzato, soprattutto anche dai tristini. Allora, guarda, la Sachertorte è la torte per eccellenza di Vienna, austriaca, e il fatto che l'unico Sachercaffè aperto fuori Vienna sia stato aperto a Trieste vuol dire qualcosa, vuol dire che quel cuore dell'Austria continua a battere un po' a Trieste, Trieste è stato il porto dell'impero asburgico, c'è quello splendido castello di Miramare dove arrivavano gli imperatori e dove molti imperatori hanno perso la vita e il cuore. Ebbene, che il Sachercaffè apra a Trieste io credo sia un segno, che costi un sacco la festa di Sacher, beh, se ne può parlare, però è già divertente che tu vada a Trieste e possa mangiare la vera e unica Sachertorte. Poi sui prezzi parliamo, ne si può trattare. Si può trattare e comunque ne mangi magari una sola volta. Grazie, grazie veramente per essere stata con noi. Buon lavoro Giovanna Botteri. Ringraziamo Rebecca, grazie Rebecca, Sandra Varaskin, con il coro che vediamo e sentiamo. Esatto, con il grande finale, il grande finale di Sachertiano con il coro sale di Sauris, che parla una lingua diversa, perché qui ci parla anche il Saurano, per farti capire come veramente tutto è stato conservato e insomma è tutto rimasto autentico, come per la tradizione. Quindi venite a Sauris e veramente sarà un incontro speciale. E andate lì come ospiti, non come turisti. Grazie Rebecca.